Chirurgia bariatrica e osso, perché ne parliamo? Ne parliamo perché l'obesità sta aumentando in tutto il mondo e i trend ci mostrano che l'obesità severa, l'obesità morbigena, quindi gli individui gravemente sovrappeso, stanno aumentando sempre di più. Quindi le procedure di chirurgia bariatrica sono le procedure offerte quando, soprattutto in questi soggetti di cui stavo parlando, gli interventi di modificazione dello stile di vita o interventi farmacologici, sappiamo quanto pochi sono gli interventi farmacologici per questi soggetti, hanno fallito e quindi c'è bisogno di ridurre il peso per ridurre le complicanze di questi soggetti. Le procedure oggi effettuate sono procedure, se vogliamo, meno invasive rispetto agli interventi classici di riduzione intestinale, mi riferisco alla diversione biliopancreatica che veniva un tempo, ahimè, ancora oggi effettuato in alcuni centri. Oggi le procedure maggiormente effettuate sono le procedure di sleeve gastrectomy, la procedura del bending laparoscopico dello stomaco e soprattutto la procedura di bypass gastrico con Anzalarou. Quest'ultima è una procedura che oltre ad essere restrittiva, quindi a ridurre l'apporto calorico in questi soggetti, è anche malassorbitiva, cioè riduce la possibilità di assorbire i nutrienti che vengono introdotti. Questo, se da una parte porta a una riduzione importante del peso in questi soggetti, con una correzione importante anche delle complicanze metaboliche associate a altre complicanze di altra natura, porta nel tempo ad altre complicanze sia chirurgiche, nell'immediato e nel lungo termine, e a complicanze ossee. Come possiamo valutare queste complicanze ossee e che cosa portano queste complicanze ossee? Portano sicuramente a un'osteomalacia in questi soggetti che presentano anche un malassorbimento di molteplici nutrienti, delle modificazioni profonde ormonali che si realizzano soprattutto in interventi come quelli di bypass gastrico e anche a modificazioni che sono indotte nell'ambiente osseo da questa riduzione ponderale importante che porta all'aumento di certi ormoni che possono modificare il metabolismo minerale e a un'acidosi metabolica anche molto importante. Questo è dimostrato dall'assorbimento che c'è in questi pazienti, dalla riduzione della densità minerale ossea che si prolunga nel tempo, quindi nel breve e nel lungo termine, e a un aumento del rischio fratturativo che in questi soggetti c'è sia prima di effettuare la procedura chirurgica ma anche successivamente. Che cosa possiamo fare in questi soggetti? Come possiamo valutarli? Sicuramente con una valutazione specifica del metabolismo minerale che ancora non è entrata così di routine per queste persone, con una valutazione sia della quantità che della qualità ossea, laddove abbiamo delle macchine che ci consentono di esplorare questi fattori nell'individuo gravemente obeso perché ci sono delle limitazioni meccaniche, soprattutto per le macchine che non sono così recenti. Mi riferisco alla MOC, la mineralometria ossea computerizzata, che è settata nelle vecchie macchine per individui fino a 130 kg. Ovviamente non è proponibile per individui con peso maggiore, ma le nuove macchine possono essere proposte e utilizzate anche negli individui con peso superiore a 130 kg. e sicuramente c'è bisogno di utilizzare in questi pazienti da subito, da dopo l'intervento, sono persone giovani molto spesso, sono molto spesso donne che avranno probabilmente gravidanze e che hanno magari cercato l'intervento proprio per avere successivamente una gravidanza e la gravidanza sappiamo quanto anch'essa produce delle importanti modificazioni in negativo nel metabolismo minerale scheletrico. Quindi dobbiamo sicuramente prevenire queste complicanze osse, utilizzare dei micronutrienti e talora macronutrienti che sono facilmente assorbibili. Non sono questi soggetti individui con un intestino normale ma hanno un intestino più corto che è stato privato proprio delle parti fondamentali per assorbire questi micronutrienti. Quindi magari dovranno essere utilizzati dei componenti più assorbibili, che hanno maggiore biodisponibilità. E nel caso di fratture in questi pazienti andarci cauti con i farmaci che abbiamo oggi a disposizione perché non vengono in special modo le formulazioni per via orale tollerate da questi pazienti che si assorbono anche pochissimo, già si assorbono poco. E quindi magari nel futuro avremo a disposizione dei farmaci specifici che potranno essere utilizzati. Quindi non bisogna assolutamente dimenticare il metabolismo osseo nel soggetto obeso che va a chirurgia bariatrica, che è contentissimo per la riduzione ponderale, che molto spesso poi nel lungo termine dimentica di fare controlli per l'osso, ma sicuramente poi magari lo rivedrà l'esperto dell'osso, il buon doctor, dopo 10-12 anni, 15 dalla procedura, con fratture. E a questo non vogliamo arrivare ma sicuramente ci prendiamo carico del paziente.